Contro Carlo Salcaraz, con lui che molti considerano l'erede di Raffa Nadal, Lorenzo Musetti vince il suo primo titolo ATP in carriera. Ieri il tenista spezzino d'adozione ha infatti superato lo spagnolo al terzo sette, 6-4, 6-7, 6-4, vincendo così il German Open 500 di Hamburgo. Il primo titolo ATP in carriera piazza il ventenne Musetti al 31esimo posto nella classifica mondiale, suo miglior risultato fino ad oggi. Ma è una finale che rimarrà nella storia non solo per la vittoria dello spezzino. È stata infatti la più giovane finale nella storia degli ATP 500, categoria nata nel 2009, e la più giovane finale dal 2005, quando i 19 anni Raffa Nadal e Thomas Burdich disputarono l'atto conclusivo in un torneo in Svezia. Ieri al termine della gara, dopo i ringraziamenti a staff e genitori, la dedica alla nonna. Dedico questo titolo a mia nonna perché se lo merita. Le ho fatto rischiare un attacco di cuore.